Il déjà vu è un fenomeno psichico che rientra nelle forme d'alterazione dei ricordi Consiste nell'entrare in contatto con fatti, cose, animali o persone che ci provocano una sensazione di esperienza già vissuta Ci mostra un tempo che non passa il ritorno ad una situazione già realmente vissuta e che in quel momento si ripresenta identica A volte anche l'amore si comporta come un déjà vu quando qualcuno che non conosci a primo impatto ti provoca una sensazione così forte, familiare, magnetica che ti sembra di essere già stato innamorato di quella persona Molti lo chiamano colpo di fulmine Non è semplicemente un modo che il cuore ha di spiegarti che in quel momento sei esattamente dove vorresti adesso Se il destino si fa incontrare una persona con cui l'attenzione è magnetica sta pur certo che arriverete ad un punto in cui non potrete soffocare la vostra chimica Potrei guardarti però, ma oggi non posso, domani lo giuro Mani ghiacciate sul cuore Un po' come quando volevi nascondere un ricordo ma la canzone sbagliata te lo riporti in mente Ormai ci hai pensato, ormai è successo All'improvviso un perfetto estraneo dopo un semplice sguardo in maniera inaspettata ti hai già rubato qualcosa Sì, innamorarsi a prima vista esattamente come un déjà vu In quell'istante ti sembra di essere da sempre stato destinato a incontrarla Scopri di credere nelle sensazioni che prima cinicamente negavi, criticavi, banalizzavi Scopri di credere in ciò che il corpo sceglie senza chiedere il permesso alla testa Back together, back together